ciao a tutti siamo nel parco dello stirone a fidenza arriveremo a vigoleno arriveremo alle cascatelle e seguiteci ciao è un po che non ti usavo vedrà un po di differenza di qualità non ha importanza andiamo sull'origine destra è un sentiero adatto a tutte le biciclette a piedi anche ovviamente momento copertina siamo arrivati al museo mare antico c'è anche l'info point e tu da qui riesci a raggiungere tranquillamente quasi tutta la zona del parco e questo è stato asfaltato si può proseguire lungo lo stirone lungo l'argine del fiume in questo momento preferiamo di fare un po di strada per pedalare un po di più siamo le cascatelle dove lo stirone qui ha formato un vero e proprio canyon e dove è molto facile trovare dei fossili siamo al parco delle cascatelle dove vi dicevo che qui è stato creato un vero e proprio canyon e adesso andiamo a vedere guardate che meraviglia pausa pranzo qui alle cascatelle solito riso freddo tonno e birra mexico vamos il viaggio al brand ha cambiato filo adesso beve la coca il più aprire mangio adesso invece di dire cazzare abbiamo mangiato lasciamo le cascatelle e ripartiamo passiamo allo stirone e si entra in provincia di piacenza e inizia la salita al castello di vigoleno ma che culo la macchina siamo arrivati a vigoleno uno dei boghi più belli d'italia e inizia la salita al castello di ricorda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pausa, caffè e gelato. Ah che bella cameriera. Il locale dentro è bellissimo e lui è simpaticissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E su queste immagini si conclude il nostro giro di oggi con circa 60 km. Come vi sia piaciuto, ciao alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.